In cima alle richieste della clientela ci sono sempre loro, i pizzoccheri. Difficile immaginare un pranzo tipico senza questo piatto principe della cucina valtellinese. Teglio offre però nel corso del lungo programma dei weekend dei sapori d'autunno tante proposte culinarie capaci di ingolosire gli amanti della buona tavola. Il calendario degli appuntamenti è più che mai nel vivo. Il meteo poco conta, con la pioggia o col sole i ristoranti della località registrano un andamento di prenotazioni più che soddisfacente che confermano la vocazione di Teglio all'enogastronomia di eccellenza. Finito il mese di settembre all'insegna della coda dell'estate quindi con delle giornate fantastiche che ci hanno aiutato ad avere un pienone infernale direi in questi quattro weekend di settembre che appunto hanno sancito il pizzocco d'oro. Da oggi iniziano i sapori d'autunno a Teglio, di fatti anche il tempo ormai è autunnale per cui ci immergiamo nella fulda dei funghi a seguire la selvaggina per finire i sapori autunnali. Tutti questi weekend ci accompagneranno fino alle porte dell'inverno fino alla fine novembre e primi dicembre per cui noi aspettiamo sempre numerosi turisti che vorranno assaggiare e degustare le nostre peripatezze. Un programma, un'offerta che nel rispetto delle prescrizioni Covid garantisce la consueta ospitalità nel segno delle gastronomie di eccellenza di Teglio. Certo quest'anno causa Covid i nostri weekend saranno improntati esclusivamente nei ristoranti quindi nei menui tematici che ogni ristorante proporà sulla tavola naturalmente sono saltate un po' tutte le manifestazioni collaterali quindi visite guidate, manifestazioni in piazza e quant'altro proprio per evitare gli assemblamenti e per rispettare le norme anti Covid. Tutti i ristoranti seguono alla lettera alla perfezione tutte le prescrizioni per cui in tutti i nostri ristoranti si può mangiare in massima sicurezza, in massima tranquillità.